Ci troviamo a Foppa Fosca, in località Möskel, dove si sta lavorando al Silter del Rui. Che cosa si sta facendo? Il Silter del Rui è un manufatto antico, risale a prima dell'unità d'Italia, è stato acquistato da un privato, faceva parte del comune di Oltresenda Alta, come si diceva allora, e serviva essenzialmente proprio per tenere più che i formaggi il burro, perché il fenomeno del Silter del Rui è un fenomeno simile, anche se molto più pronunciato, di quello della Valle del Freddo, dove queste correnti d'aria gelida risalgono in superficie e allora avevano creato questo casello, che penso oltre 70-80 anni fa si è imploso, cioè il Silter ha ceduto e è rimasto così per tantissimi anni. Il recuperare questo elemento storico e molto importante della nostra zona, anche come fenomeno naturale, sembrava una buona cosa. Siamo riusciti a farlo, questo è molto importante. A questo abbiamo aggiunto anche il parcheggio in località Spinelli, in modo che possa servire da appoggio a chi poi circa tre quarti d'ora può raggiungere il Silter, oppure si può arrivare al Silter facendo il permesso per la Gipabile, oppure si può arrivare in bicicletta, in mountain bike, e creeremo un punto nel bosco, sempre di proprietà comunale, creeremo una specie di piazzuola dove lì potranno fermarsi, potranno fare picnic, avranno la possibilità anche di fare, penso, il barbecue e così, in modo che questo manufatto dovrebbe essere, a mio avviso, anche visitato molto dalle scolaresche, per capire e per imparare qualcosa dai vecchi, da quello che una volta era l'esigenza primaria di sopravvivere, che però portava l'uomo a sfruttare qualsiasi elemento importante. In questo caso questo freddo, che è veramente forte, infatti noi siamo qui con la giacca a vento, perché quando si arriva vicino si sente proprio l'aria gelida che fuoriesce. Riteniamo entro la metà di giugno di aver completato l'opera, e quindi a questo punto potrà essere vista e visitata, la porta di ingresso sarà chiusa, però a richiesta potremo fornire le chiavi, doteremo comunque, ci sarà una finestra, dalla quale uno può vedere all'interno, e proprio in questi giorni pensavo di poter mettere un pannello solare con dei led, in modo che uno possa arrivare e vedere effettivamente come era l'interno di questo piccolo casello, dove si conservavano i prodotti, i prodotti dal peggio. Sappiamo che un problema che le sta molto a cuore è quello della viabilità in questa zona, che cosa state pensando? Ma il problema della viabilità francamente è stato il primo problema che io ho affrontato quando ho avuto piacere di diventare sindaco, e il primo pensiero era di asfaltare la strada da Spinelli al Muschel, che avrebbe creato una situazione di tranquillità nel tempo, di manutenzione evitata, però queste cose al momento non si possono fare, e le accettiamo, con rammarico, perché anche il parcheggio che abbiamo fatto a Spinelli, avevo chiesto in tutti i modi di poter asfaltare almeno il pezzetto di strada che poi dà inizio all'agro silvopastorale, ma non c'è stata questa possibilità. Forse in futuro io penso, spero, mi auguro, che le cose cambino. A proposito di viabilità, la provincia l'anno scorso ci aveva fatto un progetto gratuito per la strada di Valzulio, che è un grosso problema, perché è una strada stretta, con 13-14 curve, ci si passa con una macchina e per passarne in due bisogna fare marcia avanti e marcia indietro, quindi era un grosso problema. Abbiamo avuto questo progetto, poi abbiamo pensato anche di mettere in sicurezza ulteriormente la strada con diverse reti parasassi. Il progetto è stato inserito nel bando dei piccoli comuni di questi soldi che dovrebbero arrivare, che sono stati stanziati. Abbiamo fatto questo tentativo e il tentativo è andato a buon fine. Quindi ritengo con tutta tranquillità, spero che non ci siano intoppi, che si possano investire questi 150 mila euro nella strada di Valzulio per migliorarla e far sì che la gente ci venga un po' più tranquillamente.